La teoria del minimo di maggio per giugno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Come promesso facciamo un video tra virgolette complottista perché andiamo a ragionare sulla possibilità che questa fase di Bitcoin e delle criptovalute rialzista dal minimo di novembre fino più o meno ai massimi della scorsa settimana sia in sostanza una trappola per Tori e proprio questa fase rialzista ragazzi praticamente sarebbe un trappolone, quella che vediamo in questo momento per esempio su Ethereum, ve la faccio vedere qui, sarebbe un trappolone che ha attirato un po' i rialzisti, quindi chi voleva insomma si aspettava un mercato rialzista, li ha tirati dentro per poi dargli lo schiappone e portare il mercato a fare un nuovo minimo, un minimo molto più importante del precedente di novembre, quindi in pratica saremo con un Bitcoin che scende sensibilmente al di sotto dei 15.000 dollari e insomma si porta dietro un po' tutti. Esiste questa possibilità, è una possibilità che possiamo valutare ovviamente sempre in termini di probabilità, sì o no? Andiamo a fare questo video che mi avete detto, ragazzi mi avete anche più volte scritto di fare un video del genere per ragionare insieme, prendiamo però a riferimento quelle che sono tre criptovalute, non Bitcoin, perché su queste tre criptovalute si basa un po' questa teoria più che su Bitcoin stesso ragazzi, e cioè andremo ad analizzare BNB, Ethereum e Matic, perché queste tre cripto hanno dei cicli completamente diversi rispetto a Bitcoin e puntano tutte verso questa direzione. È possibile quindi attenderci verso maggio-giugno, chiaramente una fase ribassista del mercato, un minimo importante e poi da lì palla al centro e si riparte. Andiamo ad iniziare questa analisi, iniziamo questa analisi andando a guardare Ethereum ragazzi, proprio Ethereum e ci facciamo delle analisi di natura ciclica molto interessanti che riguardano il medio-lungo periodo. Intanto vi doverosamente vi specifico che questo tipo di video, se siamo in una trappola per Tori in pratica o no, sono video di riflessione, di analisi, di dati oggettivi, ma sempre e comunque parliamo di tre mesi fra ragazzi, ok? Quindi non è possibile in nessun modo prevedere il futuro, lo sapete, l'unica cosa che possiamo andare ad analizzare sono dei dati che ci possano dare una indicazione man mano che il tempo passa di come si muove la probabilità degli scenari. Vi ricordo ragazzi che il compito di un analista non è quello di prevedere il futuro o di dirvi che ha le carte sotto, diciamo, il braccio, diciamo, sotto l'uscio, sotto la manica della giacca per poi vincere, ma semplicemente andare a comprendere il concetto della probabilità e spostare il proprio stile di investimento verso quella che è l'ipotesi, lo scenario che ha una probabilità maggiore che viene sempre disegnato dal mercato man mano che passa il tempo. Va bene ragazzi, ricordatevi questa cosa qui. Allora iniziamo con Ethereum. In sostanza la questione ciclica che riguarda Ethereum. Partiamo da quello che è una struttura ciclica di Ethereum che riguarda il precedente ciclo di bull market, quello che tutti voi penso vi ricordate con grande felicità, cioè quello che è iniziato dal minimo di dicembre del 2018 fino al massimo poi di novembre 2021. Questa struttura ragazzi, questa struttura che vedete qui su un time frame di natura settimanale perché mi serviva un time frame lunghetto, ha fatto una struttura di cicli a tre, chiamiamoli così. Cicli che sono dei cicli annuali abbastanza lunghi, ovviamente, però che hanno in pratica una struttura molto facile da comprendere, ripetitiva, diciamo così. La primo ciclo annuale di Ethereum è stato chiuso sul minimo del marzo 2020 con la questione della pandemia, il secondo è stato chiuso più o meno in questa zona, non si capisce bene se a giugno o luglio del 2021, cambia poco, lo facciamo chiudere a giugno, il successivo è teoricamente arrivato fino a giugno 2022. Si vede e si evince anche che la struttura di Ethereum è cambiata da giugno 2022, a differenza di quella di Bitcoin per esempio, che è cambiata a novembre 2022 e questo è un nodo un po' da sciogliere perché qui c'è in effetti un punto interrogativo molto rilevante che ancora Bitcoin stesso non ha eliminato per via del fatto che siamo ancora al di sotto della famosissima ormai resistenza a 25.500-26.500 dollari, quell'area di resistenza di Bitcoin. Quindi fino a quando non saliamo al di sopra di quel livello siamo ancora in, come si dice, in bilico, no? Allora, questi sono i tre cicli annuali che formano una struttura sottostante di Ethereum da 1280 giorni e dal minimo di giugno è iniziata una nuova fase ciclica. Attenzione perché c'è già una differenza enorme, cioè il ciclo ribassista del bear market di Ethereum è molto più corto rispetto al solito, cioè tendenzialmente Ethereum, ragazzi, ha dei cicli che sono leggermente più lunghi di questi 350. 350 giorni sono cicli naturali per il mercato classico, old market, ma non per il mercato cripto per via del fatto che le criptovalute sono aperte anche sabato e domenica, quindi fanno più giornate e i tempi si allungano per via del fatto che i giorni sabato e domenica non sono anche incisivi in termini di pricing. Perciò rispetto a dei cicli standard del mercato classico, 350-360 nel settore delle cripto è un po' corto. C'è da indicare quindi che se effettivamente su questo minimo è iniziato un nuovo ciclo annuale di Ethereum, questo ciclo annuale potrebbe essere anche lui un po' cortino come il precedente e portare ad una fascia di prezzo tra il maggio, vedete, 2023 e il giugno, 2000 giugno, qui siamo giugno-luio, quindi questa zona di prezzo qui, ragazzi, questa zona di tempo, scusate, non di prezzo, che potrebbe essere una fase di minimo. Ed è da qui che noi abbiamo ottenuto in pratica la prima informazione del cosiddetto concetto che questa fase rialzista, proprio questa, non questa, questa era un movimento di swing accettabile, questa fase rialzista possa essere in pratica una trappola per Tori, perché effettivamente un balzo che poi non supera lo swing precedente, anche secondo quella che è la teoria di Dow, andremmo ad avere quindi un massimo più basso di un massimo precedente, pericolosissimo, una struttura ciclica che va, volge, verso una possibile chiusura tra maggio e giugno. Se questa view fosse corretta, in pratica questo ciclo di Ethereum è un ciclo cammello che si sviluppa esattamente in questo modo, che quindi manca l'ultima gamba ribassista che sarebbe, dovrebbe verificarsi da marzo in poi, marzo, quindi aprile, maggio e un po' di giugno, quindi il minimo di maggio si configurerebbe come una specie di doppio minimo, di minimo inferiore al precedente di giugno 2022, che è intorno agli 880 dollari. C'è la questione che si liberano dagli state di Ethereum a marzo, moltissime di Ethereum a marzo, quindi un po', no? Quello che sono queste view, ragazzi, non sono poi basate solo su follia, eccetera. C'è un po' dei concetti di natura oggettiva che dobbiamo andare a controllare, ma fate attenzione perché tra un po' vi dirò anche, adesso vediamo Ethereum, BNB e Matic che riportano la stessa struttura, ma poi vi dico anche la mia alla fine del video e vi spiego anche un'altra view che in molti non hanno visto, anzi, secondo me nessuno in questo momento la sta considerando, che un po' mi stuzzica e secondo me andrebbe considerata, a prescindere dal fatto che è un po', insomma, dobbiamo un po' non storcere il naso, ve la faccio capire dopo, soprattutto i puristi dell'analisi ciclica dovranno storcere il naso, no? Da questa fase. Allora, andiamo a considerare quindi questa possibile zona di maggio-giugno come il famoso minimo, a questo punto, al di sotto addirittura di questa fase. è ovvio che se il mercato dovesse effettivamente confermare questa view, ragazzi, da qui vi dovete aspettare una gamba ribassista fino a maggio. Vi dico tra un po' se questa cosa mi garba o meno e se anche io la penso in questo modo, ragazzi, quindi, insomma, già giusto per intenderci, diciamo, da questo punto di vista. Allora, andiamo a vedere il grafico invece di BNB. Allora, il grafico di BNB che cosa riporta, va bene? Allora, è la stessa identica struttura. Se dovessi essere sincero è ancora meglio rispetto ad Ethereum, perché ci sono delle precisioni maggiori rispetto alla struttura ciclica, perché qui i cicli sono ancora più precisi, sempre di natura ternaria, ben delineati con una struttura che a questo punto, vedete, ragazzi, non fa una grinza, cioè indica in sostanza che dal minimo di giugno è iniziato un nuovo ciclo annuale anche per BNB. sembrerebbe proprio così ed ha una struttura, ancora una volta, vedete, poco poco più corta. È anche vero che 430, che in sostanza è il ciclo standard di un anno standard rispetto ai cicli, quelli old, ragazzi, perché 430 sono in pratica 365 barre di un mercato old per il mercato cripto, quindi è sostanzialmente la stessa identica cosa. Però l'ultimo è stato leggermente più corto, sempre se l'ipotesi che vi dico alla fine del video non è da valutare come una struttura molto, diciamo, innovativa, che poi vi butto la pietra e mi tirerò la mano, già ve lo dico perché è estremamente complessa, quindi bisogna essere dei ciclisti, però io la mano ve la butto perché ci sono molti follower bravi in una ciclica ormai che mi seguono, quindi mi fa piacere anche la loro opinione. Allora, in questo caso, se qui è iniziato un nuovo ciclo annuale di BNB e ce ne andiamo intorno ai 370-400 giorni, vedete, siamo in zona maggio barra fine giugno, un pochettino più avanti rispetto ad Ethereum in questo caso, quindi non è proprio maggio perché inizia da giugno a luglio, quindi questa zona qui, che porterebbe anche lei una fase al ribasso, quindi saremmo obbligati in pratica, se qui è iniziato un nuovo ciclo di BNB, a vedere una cosa del genere, perché questa zona rappresenta il must short. È un must short perché è la seconda parte di un ciclo annuale, quindi il secondo semestrale sarebbe di un ciclo annuale, che essenzialmente ha una tendenza rialzista nella prima parte, ma poi si indebolisce subito, quindi per quella che è la teoria ciclica, se così dovesse essere come con Ethereum, dobbiamo iniziare ad aspettarci già dai prossimi giorni, prossime 2-3 settimane, una fase di debolezza di queste criptovalute, che vi ripeto, sono completamente diverse in assetto ciclico rispetto a Bitcoin. Andiamo a vedere anche l'altra, che è la terza, che vediamo, che è Phantom, che anche lei ha una struttura diversa rispetto alle altre, perché in sostanza è una cripto che è stata più forte, però anche lei indica con la zona di giugno come zona di minimo. E il precedente ciclo annuale di Matic ribassista anche lui, quindi il ciclo del bear market è durato pochissimo ragazzi, 329 giorni, il precedente molto lungo invece, troppo lungo scuserei dire, 4,90, perché? Perché era iper rialzista con delle fasi abnormi di rialzo, ci parliamo dal minimo del ciclo al massimo dei 442.326%, ragazzi, va bene, numeri stellari, è ovvio che una cosa del genere esiste solo e esclusivamente una volta ogni tanto, e poi soprattutto ci sta che si allungano i tempi con un ciclo che fa una struttura rialzista di questa portata. Ma questo è veramente corto, segno anche della grandissima forza di Matic, e a questo punto se noi ipotizziamo un ciclo similare al precedente, quindi corto un po' come il precedente, qui dovremmo essere in zona maggio-giugno, vedete, proprio maggio-giugno, anche una volta, ancora una volta, per andare a fare la struttura di minimo e quindi chiudere il ciclo annuale. Ma se questo è vero, ancora di più questo rialzo è un mass short, ragazzi, perché è l'ultima struttura del ciclo, vedete, uno, due, e chiusura del ciclo. Allora, questo sembrerebbe essere proprio una chiamata short su Matic, che tra le altre cose ha anche una particolarità, cioè il fatto che sia, per esempio, rispetto alle strutture di rimbalzo del precedente bear market intorno alla zona 0,5 di Fibonacci come rimbalzo. Quindi questo massimo sarebbe un rimbalzo intorno al 0,5 di Fibonacci. E porterebbe, in sostanza, poi alla chiusura nei prossimi mesi. Quindi, secondo questa teoria complottista, oserei dire, questa fase rialzista è un mass short ed è una trappola per Tori. È possibile, analizziamo adesso un po' i dati e vi dico anche la mia opinione, è possibile che questa cosa sia così? Sì, fin tanto che Bitcoin non supera i 25.500, 526.000 dollari. Se li supera, questa view perde aderenza, ragazzi. Ma fin tanto che Bitcoin rimane sotto, e al momento è sotto, quando sto registrando questo video, che è il 22 di febbraio, è sotto questo livello, ragazzi. Quindi questo scenario può essere ancora valido. Tenetelo a mente. Qui si gioca la partita, ragazzi. Perché? Perché il rischio di subire una cosa del genere rende anche l'operazione long, e quindi rialzista sulle cripte Bitcoin, molto ghiotta. Perché c'è pericolo ancora, ragazzi. E il pericolo significa che, se il Bitcoin dovesse andare effettivamente a invalidare questa view salendo sopra quel livello di resistenza, provocherebbe la chiusura di tantissime operazioni short, perché troppo pericolose, e darebbe ulteriore gas a una fase di rialzista. In pratica, ragazzi, siamo ad un limbo, cioè a un livello proprio sottilissimo, dove oltre cambiano dei livelli di ipotesi sia per Bitcoin, sia per altri cripto, sotto invece si ha paura. Quindi, da una parte, questa enfasi emotiva sarà scaricata in uno dei due lati. Questo è interessantissimo da andare a comprendere, perché aumenterà la volatilità e aumenterà anche i possibili gain. Quindi accettate, perché laddove c'è rischio c'è anche un'enorme possibilità, se questa ipotesi viene invalidata, cioè con il rialzo di Bitcoin sopra quei livelli, ciao ciao a tutta questa questione e si invalida appunto la situazione e quindi poi, in pratica, si può assistere ad una fase di ripresa più importante. C'è da fare anche un'altra ipotesi per quanto riguarda Ethereum e adesso ve la butto lì, ragazzi. Intanto, quella che vedete qui è una media a 50 settimane e io, in questo caso, se non, come voi sapete, io userei la 52, non cambia niente, ecco per questo non l'avevo modificata, perché 52 settimane è più o meno la media di un annuale e ci può stare tranquillamente. In questa zona, ragazzi, Ethereum sta respirando, però è anche vero che nulla vieta, appunto, su un eventuale break di Bitcoin che possa continuare una fase di alzista anche se poi dovesse andare a chiudere il ciclo annuale, quindi spostarsi prima in una situazione del genere e poi chiudere un annuale. A quel punto, ok, il minimo di maggio, giugno, barra anche lui, abbiamo visto su BNB, potremmo accettarlo, però magari partiamo da livelli molto più alti, quindi non ci porta più di tanto, non è più una trappola per Tori, questa qui, ma diventa semplicemente un trend che poi fa la sua naturale correzione. c'è anche un altro fattore di natura ciclica che farà storcere, appunto, come vi accennavo, il muso a tantissimi ciclisti e puristi dell'analisi ciclica, e cioè il concetto su Ethereum è valida, su BNB è valida, su Matic non è valida questa cosa, ma su BNB, su Ethereum potrebbe essere che il minimo di novembre potremmo considerarlo in close come effettivamente il vero minimo ciclico e che questa zona di giugno sia una imperfezione delle strutture cicliche che si chiamano lingue di Bayer, cioè una imperfezione che non fa coincidere il minimo del prezzo con la chiusura temporale di un vero ciclo. Se ne verificano spesso di queste imperfezioni, ragazzi, e su le crypto possono essere anche estremamente evidenti e a volte un po' eccessive come questa di Ethereum. In tal caso, se proprio dovessi volessi essere estremamente puntuale sulla questione, se inseriamo questa struttura di questa imperfezione si arriva a un ciclo abnorme, cioè molto più lungo dell'accettabile, diciamo da un punto di vista di ciclo annuale, siamo a 4,90 o a 5,10, però essendo questa un'imperfezione, appunto, una lingua di Bayer non viene considerata nel ciclo precedente, quindi si può accettare. Teoricamente, se questo avvenisse, adesso ve la sto buttando lì perché questa ipotesi, ragazzi, è estremamente un po', no? Creativa, diciamo così, quindi non la considerate come un dato e un'idea, un'idea che bisogna poi metterla in atto e verificare effettivamente poi più in là se questa cosa può essere accettata o meno. Questo concetto però farebbe sincronizzare il ciclo di Ethereum con quello di BTC ed effettivamente potrebbe essere validata in questo caso spostando anche quello che era il ciclo annuale di Bitcoin, di Ethereum, non sul minimo di giugno ma su quello di luglio come effettivamente Bitcoin e effettivamente come confermato sul minimo della close della candela settimanale e non sul lasciato e in questo caso avremo 4,90 e 4,90 accettabili anche se questo appunto come vi dicevo è molto lungo per un ribassista del genere quindi ma ci sta perché ci sarebbe la cosiddetta lingua di Bayer. Una lingua di Bayer così costruita e non è andata al di sotto del minimo precedente è accettabile? Sì, è accettabile si chiama lingua corta cioè non è una lingua lunga che allunga appunto il minimo ci può stare tranquillamente è un'anomalia assolutamente però non è da eliminare cosa ne pensate voi che siete magari degli esperti magari in ciclica ragazzi e vi piace tanto di queste ipotesi per gli altri magari chi non la conosce perché no valutatela perché è anche bello imparare tante cose e soprattutto vedere quanto i mercati effettivamente poi possono dare delle indicazioni forvianti che magari non vediamo magari poi vediamo nel corso dei successivi mesi e quindi lì lì per lì restiamo un po' sbalorditi e dire ok ma che cosa sta succedendo allora questa ipotesi non l'avevo mai indicata all'interno di un video l'ipotesi di una lingua di buyer all'interno di questa struttura di Ethereum che aprirebbe quindi spazio a questo punto proprio ad un nuovo ciclo di Ethereum coincidente con quello di Bitcoin che a questo punto sarebbe al 100% un nuovo annuale e quindi eliminerebbe la ipotesi di un minimo a maggio ma bensì potrebbe portare addirittura a una fase di massimo in quella zona allora detto questo volevo rendervi partecipi di queste ipotesi di questa alternativa soprattutto su Ethereum un'alternativa interessante il video complottista tra virgolette del minimo di maggio giugno ve l'ho fatto vi ho spiegato quali sono le possibilità dove sta il trigger che può spostare per esempio su Ethereum la previsione da una parte o dall'altra ve la faccio vedere in maniera molto semplice il trigger sarà al 100% il superamento dei 2000 dollari 1000 e 9000 dollari su Ethereum quindi se dovesse la regina delle cripto nei prossimi giorni spostarsi e confermare in close almeno daily questo livello di 2000 dollari sopra 2000 dollari potremmo iniziare a valutare questa struttura come effettivamente una struttura possibile quindi un'imperfezione e un'anomalia ciclica che ha fatto proprio la regina delle cripto fino a quel livello l'ipotesi principale resta quella del annuale partito da giugno che allora a quel punto può effettivamente portare alla fase di bassista di maggio giugno se questa cosa quindi vi ho detto il trigger che sguicciano la probabilità immaginatela come probabilità 60 minimo a giugno luglio scusate a maggio giugno e probabilità 40 una imperfezione di lingua di buyer corta come si sguiccia se sale sopra il 2000 se sale sopra il 2000 e lo conferma sguicciano le probabilità quindi più probabile un nuovo ciclo da novembre anche per Ethereum sarebbe una figata perché nessuno lo avrebbe visto neanche io prima di oggi diciamo l'ho visto qualche settimana fa quindi oggi ve l'ho spiegato e sarebbe figa una cosa del genere perché in effetti lascerebbe tutti con il cerino in mano in realtà no perché noi siamo trend follower quindi siamo long sul mercato però avremmo meno rischi quindi potevamo magari spingere di più i long entrare in leva fare altre cose questo sarebbe stato molto più carino cosa ne pensate fatemelo sapere noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti